Il martedì grasso è il giorno del divertimento soprattutto per i bambini che però quest'anno trascorreranno la giornata di carnevale in casa a causa della pandemia da covid-19. I produttori di col diretti del mercato di Viernienzi a Chieti hanno deciso di donare ai loro clienti una bustina contenente stelle filanti e frappe made in Abruzzo, un segno di festa per i tanti studenti che sono costretti a rimanere a casa per svolgere la didattica a distanza e che a differenza degli anni precedenti non potranno partecipare alle tradizionali feste in maschera. Nel mercato è stato allestito un banchetto con dolci tipici della tradizione carnascialesca tra cui chiacchiere, cicirchiate e castagnole ovvero dolci a chilometro zero. Giuseppe Scorrano, presidente regionale dell'Associazione Agrimercato e delegato regionale di col diretti giovani in presa, ci spiega come è nata questa iniziativa ma anche come si realizzano le frappe o chiacchiere. Per cercare comunque di salvare un po' quelle che sono le tante tradizioni della nostra bella Italia abbiamo pensato di fare anche un carnevale a distanza, quindi oltre che la didattica a distanza. Stiamo regalando ai bambini, alle famiglie, ai genitori che vengono ai nostri mercati un sacchettino con delle frappe. Sono un dolce molto molto semplice, si tratta appunto di una semplice sfoglia, è un impasto che noi realizziamo nel nostro caso con tutti i prodotti agricoli, quindi prodotti della nostra azienda, a partire dalla farina. Noi utilizziamo una farina di grano tenero di tipo 1, quindi comunque macinata a pietra, semi integrale. L'impasto fondamentalmente si realizza senza latte uova, si realizza con un impasto al vino che dà fragranza. Molto importante è appunto la frittura. Noi da produttori di di olio, di oliva, utilizziamo il nostro prodotto, il nostro olio. L'olio d'oliva è un olio che sicuramente ha tantissime proprietà, ma è molto anche indicato per la frittura. La fase di preparazione è molto semplice. Nella fase di frittura questo va molto in base anche a un occhio attento di chi sta realizzando questo prodotto. Devono essere dorate e non devono essere eccessivamente cotte, quindi comunque bisogna stare attenti in questa fase, aspettare che la frappa come viene immersa nell'olio si va a gonfiare, ricresce, aumenta il proprio volume e quando vediamo che inizia a dorare la possiamo tirare fuori.